Non è stato caricato! Preso! Sì, colpi! Unico è stato distrutto! Enemie forces have captured a zone! Prossimo visivo! Unico è stato distrutto! Unico è stato distrutto! Unico è stato distrutto! Per uscire la nostra piazza! Attention to the designated grid square! Unico è stato distrutto! Unico è stato distrutto! Pronto a far fuoco! If we don't do something fast, the enemy won't win! Attack the B-point! Peso! Il radiatore è stato danneggiato! Peso! Il carro armato nemico è stato distrutto! Peso! Alline forks have captured the drone! Richiesta per fuoco di artiglieria! Peso! È stato distrutto! Alline forks have captured the drone! Sì, colpito! Peso! Pronto! L'obiettivo è stato distrutto! Pronto a far fuoco! 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 Il nemico è stato distrutto. Attention to the designated grid square. Su, l'ossiaio. Fuoco nel vano di combattimento. Il portale è stato giordito. Prossimo obiettivo. Il serbatoio è stato forato. Attention to the map. Il carro armato nemico è stato distrutto. L'arma è stata balleggiata. Preso. Il nemico è stato distrutto. Affermative. Preso. 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 Un nobile. Non mi sta bene! L'obiettivo è stato distrutto Il nostro settore è sotto il fuoco di sbarramento L'obiettivo è stato distrutto Il nemico è stato distrutto Prossimo obiettivo Pronto a far fuoco L'obiettivo è stato distrutto Preso Il carro armato nemico è stato distrutto Sì, colpito L'obiettivo è stato distrutto L'obiettivo è stato distrutto Pronto Pronto Just a little more effort And victory will surely be ours Pronto Preso Prossimo obiettivo L'obiettivo è stato distrutto Il carro armato nemico è stato distrutto Il carro armato nemico è stato distrutto Il cannone è stato caricato Il carro armato nemico è stato distrutto Il carro armato nemico è stato distrutto Non ne è stato distrutto